Vedi azzardare a giocare con fiammini, sai? Ho visto l'interprese. E metti subito al posto la scatola o passi di qua. Valori in onda sicuri in casa nostra. Documentario sulla sicurezza domestica. Nella puntata di oggi parleremo della sicurezza dei nostri bambini. Ognuno di noi pensa che gli incidenti siano rari. E purtroppo non è così. Ma non è vero. Ma chi se ne frega, scusa? Adesso ho vinto speciale. Dovete sapere che al primo posto tra gli incidenti in casa ci sono le cadute. E adesso ve lo dici. Gnappi! Gnappi, oh, sono un po' più chiaro, lo voglio! Divertiti insieme ai tuoi amici con Gnappi! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Aiuto, aiuto! All'imboca! All'imboca! Cosa devo fare? Quando ti asciugli i capelli ricordati di mettere delle ciabatte di gomma. E soprattutto non rinfilare mai nessun oggetto nella presa della corrente. Hai torto! Hai torto! Te lo dimostro! Guarda! Chi se ne frega, chi se ne frega! Come sta per tenti in casa? sì quiametero ah hi guì non mi sento ah dici a таких a a a a a a ap a